Sono Laura Antichi, vi presento Mozilla Hubs, presenze virtuali in educazione. Questa è una presentazione base dell'applicazione e nel contesto della Mixed Reality. Mozilla Hubs è una piattaforma open source di realtà virtuale in fase di sviluppo e di collaudo. Si entra gratuitamente, permette di accedere ad un ambiente tridimensionale con gradi di immersione differenziati in base agli strumenti utilizzati se si usano visori o se si accede semplicemente da browser e PC. Permette di creare ambienti e di scegliere tra quelli a proposti, come vedete. Dopo andremo a vedere dal vivo. Si partecipa con una presenza avatar, in set name and avatar. Gli avatar di The Fall sono semplici robottini che possono essere personalizzati quando si prende la mano con l'ambiente adottando alcune tecniche o uploadando file GLB. Gli ambienti possono essere personalizzati con l'inserimento di oggetti. In questi spazi è possibile riunirsi, discutere e incontrarsi, creare mostre e luoghi paralleli dell'esperienza reale. Mozilla Hubs è un interessante progetto da sperimentare in ambito educativo per creare spazi alternativi di esperienza in ambienti digitali. L'occasione della didattica digitale integrata e della didattica a distanza ci dà modo di accorciare le distante e di creare e partecipare ad incontri virtuali sia per socializzare che per apprendere. unisce l'idea del gioco a quello della formazione, facile accedere a Mozilla Hubs. Ottimo il modello Summer per interpretare gli effetti negli apprendimenti usando esperienze immersive o di realtà mista. I livelli del Summer Model sono Substition, Augmentation, Modification e Redefinition. Utilizzare quindi il Summer Model in Progress per favorire l'apprendimento motivato con le tecnologie, per svolgere e presentare i compiti autentici, per ridefinire l'apprendimento in compiti nuovi. Questo modello Summer è utile per progettare e sperimentare in progressione esperienze di apprendimento digitale. L'uso delle tecnologie digitali aiuta lo sviluppo delle esperienze di apprendimento con lo scopo di ottenere livelli più elevati di competenze negli studenti. Cosa si ridefinisce con l'esperienza immersiva? La progettazione nelle mani di docenti e studenti, la gestione di relazioni, simboli e artefatti, la partecipazione in gruppi di interesse, nuovi approcci al problem solving relazionale orientato agli oggetti, la sperimentazione di nuove grammatiche e linguaggi, la motivazione e il coinvolgimento. Ecco, questa è la presentazione statica di inizio. Grazie. Grazie.